Incredibile ragazzi, incredibile, non c'ho parole, non c'ho parole, non c'ho parole, non c'ho parole, non c'ho parole Mamma mia Ma è assurdo comunque, c'eravamo quattro di noi, siamo riusciti a dare la palla all'unico giocatore del Toro, oddio Mamma mia Andatevi a raffanculo tutti va, andatevi a raffanculo tutti, andatevi a raffanculo tutti Per cui che il passo a... Tonali Teo, Messias la recupera un attimino poi, a dopo Sec, ecco alla, non voglio vedere Baieie, tre contro tre, palla te, gol Torino è in vantaggio Palla madonna, tira dentro, ecco, persa palla Sembra che sono loro con l'uomo in più ragazzi Gol del Torino Gol del Torino Pazzesco ragazzi, pazzesco L'ho detto io che sono loro che giocano con l'uomo in più, non noi Pazzesco ragazzi, pazzesco, non ci posso credere Porca miseria Porca Supera dopo, ragazzi, ha dopo fatto gol E' un vantaggio assassino con Michel a dopo Che ripartenza Chiaro che ci sono anche delle imperfezioni perché non può prendere una ripartenza così Da parte, da parte del Minkira ma ha fatto tutti molto bene Tutto l'accio dalla protezione, palla di segra Il Bruno palla al limite Mamma mia ragazzi No, non ho parole, ve lo giuro, non ho parole Non ho parole Non ho parole Gol del Torino Ma va bene Vedi che c'è l'espituto Vedi che c'è l'espituto Incredibile ragazzi Dai Junior, dai Junior, dai Junior, gira la Junior, 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 Junior Se la fa tutta e poi la gioca male, la gioca male, la gioca male Messias, devi giocarla con quelli che hanno la maglietta rosso-nera Ci abbiamo la maglietta rosso-nera, Messias No, non ho parole, grazie a tutti No, no ho parole, non ho handato a la gioca male, la gioca male, la gioca male, la gioca male, la gioca maglia, la gioca male, la gioca ma grazie a tutti Grazie. Grazie.